Certo, per un attimo, per tutti le lunghe, per il mio caso mi chiuso da una lì per tutti, eh? Tutti per le lunghe, così? Nel col flesso, sì, sì. Per cui si parla di un disegno? Ok, ma ancora dov'entrata? Ma era so grande, no? Andrea, ma mi hai fatto qualcuno lo smai, eh?